Se il lavoro resta la più grande piega sociale del capologo Peligno, per i giovani non c'è via d'uscita, per i sulmonesi, nella nostra raccolta di opinioni, è opportuno e prezioso tornare a lavorare i campi e a stringere la mano all'agricoltura. È un'idea eccezionale, il problema è che non tutti lo fanno, prima o poi si deve tornare a questa soluzione. Io penso che mio padre, prima di morire, faccio un esempio personale, mi ha lasciato ai miei nipori 400 piante di mele, pomodori, prima o poi si tornerà all'agricoltura di una volta. Certo che si può tornare all'agricoltura, si può sempre fare tutto, l'importante è avere la voglia di fare. Assolutamente sì, specialmente nelle nostre terre dove c'è proprio dal passato, c'è questa grande cultura dell'agricoltura, della pastorizia, si può tornare. All'agricoltura, beh questo è un problema che ci abbiamo sempre pensato, io stesso fino a poco tempo fa mi ero ridato all'agricoltura, cioè ai terreni, eccetera. È un problema che bisogna guardare bene. Chi la sa fa, perché per fare l'agricoltura ci vuole impegno, sacrificio e saper coltivare.